Buongiorno cari amici telespettatori e telespettatrici e benvenuti in questa stagione 2 delle interviste doppie Oggi ragazzi abbiamo due universi paralleli ma che si avvicinano così tanto Alla mia sinistra ci abbiamo dal mondo di Fortnite niente proprio di meno che il nostro caro amico Mida E qui alla mia destra nel mondo di Brawl Stars abbiamo Gelindo, un nuovo brawler Oggi abbiamo deciso di farsi incontrare il mondo di Fortnite e il mondo di Brawl Stars Quindi per far incontrare altri mondi superiamo almeno i 520 like per questo primo episodio della stagione 2 delle interviste doppie Innanzitutto salutiamo tutti i nostri telespettatori che ci stanno guardando quindi ciao ragazzi Ciao Ciao ragazzi Quindi oggi se sarete d'accordo Mida e Gelindo avrei alcune domande da farvi Che ovviamente mi hanno scritto tutti i vostri fan qui sopra Quindi direttamente andremo a leggere e voi risponderete a turno oppure insieme dipende Perfetto io direi di iniziare con il video di oggi Come prima domanda ci chiedono di partire dal mondo di Fortnite quindi con il nostro caro amico Mida qui alla nostra sinistra Mida mi chiedono come mai fai diventare tutt'oro ciò che tocchi infatti è una bella domanda tra l'altro Sinceramente non lo so niench'io è una cosa che mi porto sin da bambino e non so niench'io il perché Poi passiamo successivamente ad una domanda sul mondo di Brawl Stars Gelindo come ci si sente ad essere un nuovo brawler ma anche una nuova rarità perché Ok diciamolo tu sei un nuovo brawler che è stato inserito ultimamente E tra l'altro sei anche una nuova rarità con l'aggiunta di te gelindo come ci si sente inoltre Beh sicuramente per essere un nuovo brawler e avere una nuova rarità secondo me è molto carino Sì sono veramente felice di questa scelta della Supercell Passiamo di nuovo a Mida puoi darmi anzi anzi puoi darci facciamo così Puoi darci delle informazioni su che cosa stai facendo in game in questo momento Perché stai facendo degli strani esperimenti con la safe e roba e varie Cos'è che stai facendo ce lo puoi spiegare? Non posso di certo dare delle informazioni a voi e sinceramente stiamo parlando a quasi 100.000 persone Quindi direi proprio di non potervi dare informazioni Gelindo da dove provieni? Io provengo dal polo nord Questa è una domanda che ci chiedono di rispondere a me a Mida e a Gelindo Quindi farò anch'io parte dell'intervista in questo caso Allora domanda a tutte e tre ci chiedono Dite che cosa vi piace e che cosa non vi piace dell'altro Quindi dobbiamo dire almeno due cose che ci piacciono Per esempio nel caso mio devo dire due cose che mi piacciono a Mida Due cose che mi piacciono di Gelindo E poi devo dire due cose che non mi piacciono Va bene io direi di partire io giustamente Le cose che mi piacciono di Mida E che è una bella skin ci sta tantissimo E che poi fa trasformare tutto quanto in oro Ed è bello anche quello Gelindo La cosa che mi piace è che è molto saturo Ed è vecchio E la cosa che non mi piace per esempio di Mida è che forse se la può tirare tanto E la seconda cosa che non mi piace di Mida è che ha un carattere un po' diciamo che si vanta troppo Si vanta troppo è tipo una specie di corvo però oddio raga 600 like facciamo incontrare Mida e Corvo insieme succederebbe il putiferio Invece di Gelindo cosa mi piace? Allora non mi piace di Gelindo quella giacchetta che c'ha il naso a patata rosso Sicuramente mi piace di Oject la vivacità e la simpatia Invece di Gelindo mi piacciono i colori accesi e il suono a sapatata Le due cose che non mi piacciono di Oject è che sbaglia di continuo E che si sentono troppi rumori di fondo Mentre la cosa che non mi piace di Gelindo è che si veste ancora da vesti invernali ed è vecchio Allora sicuramente di Oject mi piace la sua simpatia e la sua spiccatezza nel parlare Mida invece mi piace soltanto la sua faccia che trasforma le cose in oro Le due cose che non mi piacciono per esempio di Oject sono che si blocca troppe volte a parlare e sbaglia troppe volte La cosa che non mi piace di Mida è il suo carattere che è molto superbo Domanda per Gelindo Gelindo ti piace Brawl Stars? Se sì perché? Mi piace Brawl Stars perché è stata un'alternativa bella come gioco per farmi un attimino notare Mida ti piace Fortnite? Se sì perché? Sì mi piace Fortnite perché è stato un modo per me terminato per diventare più popolare di tutti sì E ritorniamo a Gelindo Chi faresti venire qui a fare un'intervista doppia? Non so un qualcuno che hai notato di divertente su Brawl Sicuramente preferite far venire Leon Ok questa è una domanda di nuovo a noi tre Qual è il vostro piatto preferito? Io ho sempre detto che il mio piatto preferito sono gli spaghetti al pomodoro Poi non so voi Comunque esternate Mida dimmi qual è il tuo piatto preferito e Gelindo pure Il mio piatto preferito anzi non ho un piatto preferito però sono i gnocchi Il mio piatto preferito è l'orio di tonno di salmone sì di salmone Ok Gelindo questa qua è una domanda che ti fanno Vi dicono siccome siamo quasi in piena estate giustamente visto che oggi è il 3 giugno Come fai ad avere ancora freddo? Cioè come fai ad indossare ancora quelle robe che sono veramente calde? Si sapresti spiegare perché infatti pure io te lo dovrei chiedere Sicuramente perché io porto sempre dei cubetti di ghiaccio addosso a noi Quindi è così è così io ho un dosso di cubetti di ghiaccio Ragazzi io veramente non so che dirvi vi ringrazio per essere stato qui Quindi grazie ospite Mida grazie Gelindo E soprattutto grazie a tutti voi che state guardando il video fino a questo momento Noi ragazzi ci sentiamo qui da Oject è tutto Ciao Ciao